Sicuramente in queste gare gli episodi fanno la differenza. Se avessimo fatto prima con noi con Galano magari stavamo parlando di un'altra partita. Però questo non vuol dire niente, dobbiamo stare più attenti, dobbiamo avere più equilibrio. Sembra di rivedere un po' la squadra di due o tre partite fa, anche se come dicevi tu sotto l'aspetto della partita la squadra ha cercato sempre di giocare con palla a terra, di mettere in difficoltà il Perugia. Secondo me per lunghi tratti ci siamo anche riusciti, il pallino del gioco ce l'avevamo in mano noi. Però ripeto, quando giochi, giochi, poi se perdi palla la squadra avversaria ti riparte. Quindi dobbiamo trovare equilibrio in queste due fasi e oggi ci dispiace perché ci tenevamo comunque a non perdere questa partita o quantomeno portare anche un punticino a casa per come si era messo sul 2-0. Riesci a fare un gol a fine primo tempo, magari ti dà un po' di fiducia e se la porti fino alla fine puoi pareggiarla. Invece poi c'è stato l'episodio del rigore che secondo me poi lì ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti ad andare in avanti. Gennaro, in occasione dei tre gol del Perugia però difesa del Pescara sotto accusa, ci sono stati degli errori questo innegabile? Sicuramente quando prendi gol ci sono degli errori da parte... Errori della difesa intendo dire, dei difensori? Sicuramente se abbiamo fatto degli errori ci dobbiamo assumere le responsabilità e dobbiamo migliorare. Troppo nel calcio se nessuno sbaglia non si fa mai gol. Se oggi abbiamo commesso qualche errore sicuramente durante la settimana lo guarderemo e cercheremo di correggere e di non sbagliare più. Però al di là di quello secondo me la differenza la fa sempre la squadra. Perché comunque secondo me sul primo gol è stato un errore di contropiede e poi da lì è nato il gol sul rimpallo. Sul rigore è stato comunque un contropiede tranne il gol di Capone che secondo me ha fatto un gran gol e lì è difficile secondo me mettere una pezza. Però ripeto se abbiamo sbagliato ci assumiamo le responsabilità e cerchiamo di lavorare durante la settimana per non sbagliare più. Secondo me la via di mezzo è trovare l'equilibrio. Secondo me giocando in questo modo va bene perché comunque rispecchia più l'identità di questa squadra con giocatori forti tecnicamente che palleggiano e facciamo sempre nella partita come abbiamo fatto anche oggi. Però dobbiamo capire che quando perdiamo palla poi dopo c'è da rimboccarsi le maniche e correre anche all'indietro perché se perdi palla a 70 metri dalla tua porta è normale che la squadra avversare ti ripatta. Specialmente se c'è tre giocatori di gamba deve essere bravo poi a chiudere gli spazi. Quindi secondo me dobbiamo trovare equilibrio in questo e penso che non avremo grossi problemi perché anche oggi comunque la partita l'abbiamo fatta. Al di là del risultato che è un po' pesante però credo che il Pescara mi lo tocchi a fare la partita. Tanto possesso palla Gennaro del Pescara 69% contro 31% non è bastato contro un Perugia che è stato cinico. Tre tiri in porta, tre gol, Castrati mai impegnato. Sicuramente loro venivano anche da una sconfitta pesante a Pordenone quindi ci hanno messo qualcosina in più anche sotto l'aspetto della cattiveria. Hanno vinto qualche contrasto in più quindi sicuramente erano un po' in più in cazza di noi e hanno messo qualcosina in più. Noi non siamo stati bravi a gestire questo momento perché sapevamo che venivamo su un campo di una squadra forte che magari stava attraversando un momento di difficoltà e potevamo portare la partita dalla parte nostra. Se Galano avesse fatto subito gol magari questa cosa sarebbe successa però non è stata così e oggi stiamo a raccontare che abbiamo perso 3-1 a Perugia.